Il rincaro dei prezzi sta mettendo in difficoltà anche il mondo dell'agricoltura, della zootecnia, del florovivaismo e della pesca. Non accenna a diminuire il costo del gasolio agricolo per l'uso delle macchine e attrezzature con aumenti di oltre il 50%. A questi si aggiungono anche l'elevato costo dei mangimi per le stalle e dei concimi con prezzi triplicati fino al 350-400%. Ma c'è anche un altro aspetto, il rincaro energetico. L'altra cosa drammatica è che siamo dei produttori, quindi ci serve gasolio ma ci serve anche energia elettrica, quindi nella fase di trasformazione le nostre imprese hanno raddoppiato i costi, se parliamo di energia elettrica, di acqua, quindi di costi vivi di consumi. Le stesse materie prime, come già raccontavamo, sono duplicate, quindi dalle forniture di vetri, acciaio e altri prodotti per il confezionamento come plastica. I vivai e le serre sono in grandissime difficoltà perché per riscaldare una serre è chiaro che ci vuole tanto gasolio, tanta energia e la materia prima plastica per i vasi, i vasetti è chiaro che è triplicata. Quindi veramente una situazione complicata e vanno apportate sicuramente degli interventi di defascalizzazione per parlare del gasolio ma anche su altre materie prime perché di fatto le aziende così non riescono ad andare avanti. Tra gli aspetti sottolineati c'è anche quello dell'autonomia alimentare. Rendiamoci conto che coltiviamo, produciamo il 56% di grano duro che va a produrre la nostra pasta, produciamo solo il 36% di grano tenero, per quanto riguarda carne abbiamo il 56% di produzione, quindi dobbiamo cercare di aumentare queste produzioni di qualità italiane, ma per portare sui nostri scaffali più cibo per il consumatore finale, per evitare questi sbalzi e queste speculazioni anche economiche perché di fatto adesso oltre la crisi dovuta dal Covid con questa guerra ci sono speculazioni reali ma sicuramente ci sono anche delle speculazioni economiche.